Cina, 689 d.C. Per la prima volta una donna accede al potere, ma delle morti misteriose minacciano la sua incoronazione. Un dissidente è chiamato a risolvere il caso e a proteggere il regno. Vostra maestà, vi ho portato di Renjian. Per loro è inconcepibile che io possa salire al trono. La risposta può costarti molto cara. La risposta è stata costruita. La risposta è stata costruita.